buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri ben trovati e buon sabato 31 luglio a tutti ultimo giorno del mese video dedicato contrariamente a quanto avviene solitamente in questo periodo non al calcio mercato ma al comunicato congiunto emesso da barcellona juventus e real madrid in riferimento alla sentenza del tribunale di madrid appunto che diciamo fa un po di chiarezza pone un'altra grande mattonella in favore dei tre club appena citati per la costruzione per la nascita del progetto european super league prima di commentarlo insieme a voi ovviamente poi invito a lasciare i vostri commenti qui sotto se siete tifosi della juventus iscrivetevi al mio canale youtube azionando la campanella delle notifiche e poi in fondo alla puntata se questo sarà stato il vostro gradimento mi raccomando mettete like al video ma partiamo con la lettura del comunicato così poi lo commentiamo insieme barcellona juventus e real madrid prendono atto con soddisfazione della decisione del tribunale di madrid di confermare l'obbligo di uefa di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori di european super league inclusi il procedimento disciplinare nei confronti dei tre club sottoscritti e la rimozione delle penali delle restrizioni imposte agli altri nove club per evitare il procedimento disciplinare di uefa il tribunale ha colto la richiesta formulata dai promotori di european super league ha respinto il ricorso di uefa e confermato l'intimazione a uefa che qualora quest'ultima non si conformasse alla decisione ne scatturirebbero ammende e responsabilità penali il caso verrà valutato dalla corte di giustizia europea che analizzerà la posizione monopolistica di uefa sul calcio europeo è nostro dovere scrivono i tre club occuparsi dei gravi problemi che affliggono il calcio uefa si è accreditata come legislatore operatore esclusivo e unico titolare riconosciuto dei diritti delle competizioni europee nonché organizzatore questa posizione monopolistica e in conflitto di interessi dannese il calcio e il suo equilibrio competitivo come dimostrato ampiamente i controlli finanziari sono inadeguati e sono stati applicati impropriamente al club partecipanti alle competizioni europee dovrebbe essere garantito di governare le competizioni siamo felici che da ora in avanti non saremo più oggetto delle attuali minacce della uefa il nostro obiettivo è di continuare a sviluppare il progetto di super league in modo costruttivo e collaborativo contando sul contributo di tutti gli stakeholders del calcio tifosi calciatori allenatori club leghe federazioni nazionali ed internazionali siamo consapevoli del fatto che alcuni elementi della nostra proposta potrebbero essere rivisti e naturalmente potranno essere implementati attraverso il dialogo ed il consenso rimaniamo fiduciosi nel successo di questo progetto che sarà sempre rispettoso della normativa dell'unione europea ecco questo è il comunicato emanato ripeto in via congiunta da barcelona juventus e real madrid che alla luce di quanto emesso dal tribunale commerciale di madrid ovviamente sancisce sostanzialmente una grande un ennesima vittoria nei confronti della uefa che aveva preventivamente e prematuramente fatto la voce forse eccessivamente grossa attraverso il proprio presidente seferin alla uefa viene quindi intimato da parte del tribunale di madrid dal tribunale di madrid di ritirare le minacce di ritirare le richieste sanzionatorie nei confronti dei tre club dissidenti barcelona juventus e real madrid e soprattutto anche nei confronti ma anche nei confronti dei nove club apparentemente e solo apparentemente usciti dal progetto european super league perché formalmente risultano ancora assolutamente partecipe i discritti al all'organigramma allo statuto di questa european super league pertanto queste sanzioni preventivamente chiedo scusa precedentemente annunciate da uefa nei confronti dei club inglesi ma anche delle due italiane milan inter uscite dalla apparentemente dalla super league non potranno essere attuate anzi dovranno assolutamente essere ritirate lo stesso dovrà essere fatto nei confronti di barcelona juventus e real madrid che non potranno più essere minacciate per prendere parte a questo progetto previa possibile esclusione dalle competizioni dalle competizioni europee ecco questo non potrà accadere e il tribunale di madrid invita assolutamente uefa e seferin ovviamente a fare un passo indietro e a ritirare queste minacce queste accuse e questi diciamo richieste sanzionatorie nei confronti di questi club di cui abbiamo appena detto è una vittoria totale è un ennesimo mattoncino che viene posto nella costruzione di questo progetto che vedrà la luce non si sa ancora quando non sarà tempo certamente di qualche mese ci vorrà sicuramente molto più tempo anche perché dovrà pronunciarsi poi successivamente la corte di giustizia europea in via definitiva e questo potrebbe avvenire non necessariamente nel giro di pochi mesi ma potrebbero volerci anche degli anni però come si evince dal comunicato congiunto dei tre club rimasti a condurre questo progetto di superlega ovviamente appoggiati da legali di tutto rispetto e che hanno scelto la strada della da perseguire in maniera decisa convinta e assoluta nei confronti di questo progetto e nel contro il potere monopolistico della uefa si evince la richiesta e la ricerca di un dialogo un po' parafrasando quello che sostanzialmente sta accedendo sta succedendo nel calcio mercato con l'operazione juventus e santos per caio george che al primo gennaio 2022 si libererebbe a parametro zero e il santos che prima ha provato il tentativo di fare la voce grossa magari alludendo anche a possibili clausole che ne avrebbero potuto ampliare il contratto in via unilaterale in realtà il santos si è reso conto della possibilità di perdere il ragazzo a parametro zero e allora scende a più miti consigli e nonostante un'offerta cospicua di 5 milioni di euro pervenutegli dal benfica ma forte del fatto e consapevole del fatto che caio george ha un accordo totale con la juventus dovrà piegarsi a trattare con i bianconeri che non sono disposti ad arrivare a quella cifra proposta dal club di lisbona ma dovrà gioco forza piegarsi diciamo ad una cifra ad una cifra più bassa quella che la juventus appunto è disposta a spendere nell'ordine dei due forse massimo 3 milioni di euro ma questo lo vedremo questo è quello che dovrà fare la uefa con i tre diciamo club che portano avanti il progetto europea super league sedersi attorno a un tavolo cercare di trovare una quadra perché non è consentito ovviamente una gestione monopolistica nella all'interno della comunità europea della appunto della gestione del calcio questo è quello che vogliono i presidenti di barcellona juventus e real madrid trovare una soluzione che possa essere soddisfacente un po per tutti ma soprattutto cercare di ridare l'infa ad un sistema calcio che sta vivendo veramente un tracollo ed è veramente al collasso forte anche della grande incidenza che la pandemia ha riversato sul sistema calcio la mancanza di introiti da stadio e tutto l'indotto che ne consegue hanno messo alle strette ovviamente questi club e fatto sì che si uscisse con quel comunicato alle mezzanotte e 4-5 minuti congiunto proprio per dare un'accelerata per cercare di far sì che il sistema calcio potesse essere risollevato è chiaro che questa fu una situazione criticabile senza ombre di dubbio un progetto criticabile al tempo stesso senza ombre di dubbio può piacere o può non piacere non c'è dubbio ed è legittimo che sia così è certo che se ripenso al mare di fango gettato nei confronti dei club che portano avanti tuttora questo progetto e soprattutto alle figure dei presidenti andrea agnelli in primis e florentino peres oggi sorrido perché evidentemente loro non hanno fatto altro che cercare di tirare acqua al loro mulino ma anche nel tentativo di offrire un prodotto calcio che sia di più elevato livello nel tentativo di creare un qualcosa che possa diciamo tentare di risanare il sistema poi come sempre c'è chi ha ancorato la tradizione e chi di conseguenza disdegna l'innovazione a noi non potrà non potrà succedere altro che giudicare una volta che questo si sarà verificato se quel tipo di prodotto potrà essere migliore di quello che fino ad oggi la UEFA con la Champions League ci aveva proposto saremo in grado di giudicarlo solo dopo oggi possiamo solo esprimere un nostro parere favorevole o contrario anche per una questione di sentimento di ripeto di essere ancorati a delle tradizioni certo che questa sentenza del Tribunale di Madrid diciamo rinvigorisce la posizione del Presidente Andrea Agnelli che pure non è esente da colpe per errori commessi anche da un punto di vista gestionale di alcune situazioni senza ombra di dubbio però certo forse fu fatto passare in maniera eccessiva e sbagliata per quello che in realtà non è i dati della sentenza del Tribunale di Madrid fondamentalmente gli danno ragione e quindi vedremo quello che ne sarà certo è che ad oggi la sentenza parla chiaro Seferin ha fatto la voce grossa in maniera prematura senza fare i conti con l'oste e quindi oggi si trova costretto e nella condizione di dover fare un passo indietro annullare le sanzioni richieste e annunciate con grande orgoglio nei confronti di quei club i nove che appunto apparentemente erano usciti dalla Superlega e soprattutto dovrà fare un passo indietro e lo dovranno fare anche le leghe nazionali gravina con la Serie A ma anche ovviamente la Premier League perché quello che sancisce il Tribunale di Madrid è che queste non possono assolutamente intimare nessun tipo di sanzione nei confronti di chi vorrà partecipare al progetto European Super League ragazzi ditemi la vostra lasciate i vostri commenti qui sotto iscrivetevi al canale se siete tifosi della Juventus azionate la campanella delle notifiche mettete like al video vi do appuntamento probabilmente questa sera dopo il trofeo Berlusconi Monza Juventus per un breve commento di quella che sarà stata la partita dei bianconeri contro il Monza di Berlusconi vi saluto vi abbraccio vi auguro una buona giornata e sempre Forza Juve iscrivetevi al mio canale YouTube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao